Rinnovando la mia gratitudine a tutti voi, chiedo soprattutto agli ospiti di essere fedeli nella preghiera del Santo Rosario. Quando si diventa anziani, si riscoprono le preghiere dell'infanzia e si superano tante complicazioni che soprattutto dopo il postconcilio sono venute avanti circa al pregare. Tutte le volte che si fa una riunione sono sempre delle cose lunghissime e strampalate spesso, mentre è così bello ritornare alle preghiere imparate da bambini, il Via d'Oro, Gesù d'Amore Acceso, oltre ovviamente il Padre e l'Ave Gloria e soprattutto al Santo Rosario. Vi chiedo anche, quando dite il Santo Rosario, so che qui lo si fa tutti i giorni, di dire l'Ave Maria per l'Arcivespo che ne ha un particolare bisogno, come voi potete immaginare. Ritornare alla preghiera semplice nell'età avanzata, i giovani facciano altro se lo fanno con cuore retto come fanno. Ma per noi anziani è più semplice e anche secondo me raggiunge più facilmente le vette del cielo. Rinnovo anche il mio augurio a questa città, una città a cui ovviamente sono molto legato, una realtà che ha una grande storia, che non deve essere trascurata nel presente, che deve imparare ad affrontare questo cambiamento d'epoca così difficile per tutti, immettendo nel circuito dell'ambrosianità e attraverso di esso di tutta quanta la realtà del Paese, quegli elementi peculiari che hanno caratterizzato la sua storia e la sua vita. Famiglia e lavoro. Cosa saremmo noi se i nostri padri non avessero avuto a cuore famiglia, lavoro, educazione dei figli. Queste tre cose non sono passate. Per quanto uno possa illudersi che la libertà ti può consentire tutte, queste tre cose, nel rispetto del diritto, effettivo diritto di tutti, non sono passate. Perché i nostri figli di mezza età hanno perduto spesso la strada della Chiesa? Perché i nostri giovani hanno perduto la strada dei nostri oratori, delle nostre associazioni, dei nostri movimenti? Forse perché noi, della prima generazione, non passiamo più. Non passiamo più le cose che pure ci hanno fatto. Le cose senza le quali non saremmo qui a curare i nostri cari. Senza le quali non faremmo più un'istituzione così. Perché è illusorio pensare che un popolo possa vivere solo attraverso le entità statuali. senza il giocarsi di ognuno e anche senza la generosità pensiamo alla Iroldi, che pensa alla Madonna come la strada principale per costruire qualcosa di solito come questa realtà insolita nella sua città. Quindi il mio augurio, Alecco, è che questi valori, certo, riformulati secondo la storia presente, nella sensibilità attenta ed equilibrata all'accoglienza di tutti, attraverso una richiesta ai politici di una politica lungimirante, ma dobbiamo sentire l'impegno sociale, civile, politico come uno dei compiti che in misura diversa, secondo delle vocazioni, tocca a ciascuno. Avete, occupate un posto nella realtà italiana che è solo vostro, che tocca a voi. Non può essere demandato ad altri. Credo che, voglio dire queste cose da questo luogo, perché da questo luogo si può, ho detto prima, capire cosa è una civiltà, cioè una vita di amicizia reale tra tutti coloro che abitano una realtà indipendentemente dalle diverse posizioni che possono avere, ma sono chiamati a stare insieme, sono chiamati a vivere insieme. Questo è il grande universale, è il grande valore pratico dell'epoca contemporanea in una società civile, il bene sociale dello stare insieme, che deve diventare una scelta politica, una scelta di costruzione di una civitas, di una cittadinanza che sia veramente tale. Grazie di cuore a tutti e riceviamo ora la benedizione della Trinità. Applausi. Applausi. Grazie.